I casi di dengue nelle Marche hanno raggiunto quota 180 episodi di contagio fra gli oltre 130 casi accertati e la cinquantina etichettata come probabili. Una cifra quasi interamente circoscritta a Fano, mentre a Pesaro, sebbene si si affermi solo i due episodi di contagio diagnosticati fra Viale Napoli e Viale Rovereto, si prevede ora un terzo intervento di disinfestazione da Zanzara Tigre. Sarà il più esteso visto che riguarderà l'intera zona mare della città. Al Via Dunque, questa notte alle 3 di mattina del 15 ottobre, un'azione preventiva di disinfestazione che riguarderà sia l'area di Ponente che quella di Levante, compresa nel perimetro fra il mare e la statale Adriatica. Di fatto si interverrà con trattamento adulticida su tutti i tre viali principali del lungomare, Viale Trieste, Viale Trento e Viale Battisti e su tutte le loro vie trasversali. Un intervento preventivo al cospetto di temperature d'ottobre ancora estremamente miti che agevolano la proliferazione di altre zanzare. Grazie. Grazie.